Priscilla asmr ciao ragazzi ciao 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 come state? io spero che vada tutto 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 molto 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 bene allora prima di iniziare questo video volevo ringraziare Nicola che è uno di voi ed ha deciso di regalarmi dalla mia wishlist di Amazon questa meravigliosa ring light che è proprio quella di marca della Neewer penso si pronuncia scritto Neewer ed è quella bella alta con questa ring light a cerchio molto molto grande che ha sia toni caldi che freddi di luce e penso si veda proprio la differenza di luminosità quindi grazie Nicola grazie mille sei stato veramente un tesoro grazie ancora e grazie a tutti quelli che negli ultimi mesi vi hanno inviato dei regali al canale tramite la wishlist perché grazie a voi che il canale si arricchisce sempre con nuove strumentazioni grazie grazie sono solo quattro domande quindi non è neanche un video molto molto lungo però cercherò comunque di renderlo molto rilassante quindi se vuoi puoi anche chiudere gli occhi e semplicemente lasciarti rilassare dalla mia voce allora mi ha taggata rosy 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 del canale rosy ASMR relax grazie rosy grazie mille per il tag allora dicevo appunto che sono hanno scusate sono cinque domande la prima domanda è qual è stato il tuo primo incontro con la smr ne avevi già sentito parlare allora io no non ne avevo mai sentito parlare in realtà l'ho scoperto in maniera del tutto casuale io seguivo tantissime youtubers che non fanno smr seguivo Giulia Watson Margherita Savelli Cleo Makeup Cleo Toms Lea Sofia Viscardi insomma seguivo tantissime ragazze che a quei tempi per me erano le guru è un bel giorno un bel giorno mia sorella viene da me e mi porta un video di Margherita Savelli che saluto ciao Margher e mi dice guarda pre Margherita all'improvviso ha fatto un video dove legge una storia un libro ma la legge sussurrando ma perché? ma che sta facendo? e mentre mia sorella ha sentito fastidio al sussurro infatti a lei non piace assolutamente l'smr io invece mi ero rilassata tantissimo a sentirla raccontare a leggere questo libro e da lì ho notato la scritta ASMR e ho detto ma che cos'è questa cosa? così sono andata su internet su youtube a cercare e ho trovato Chiara ho trovato Kiki ho trovato Elle ho trovato Fiore ho trovato Kotai e quindi anche Daisy Magic una dopo l'altra le ho trovate tutte praticamente e sono rimasta incantata mi si è aperto veramente un mondo un mondo bellissimo un mondo che a quel tempo soprattutto mi serviva davvero tantissimissimissimissimo quindi l'ho scoperto così allora la seconda domanda dice quali sono le sensazioni che ti hanno trasmesso nel tempo allora sicuramente le prime sensazioni che ricordo erano di tanta tanta sonnolenza appena lo sentivo subito mi volevo scusare perché sto notando adesso che facendo così lo vedete mi sono morsa la lingua questa sera mi è rimasto questo puntino rosso vabbè scusate spero non vi faccia schifo dicevo all'inizio sentivo tanta 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 sonnolenza ma proprio tantissima e mi aiutavano a dormire perché in quel periodo in particolare soffrivo tantissimo di insonnia poi hanno cominciato ad aiutarmi per l'ansia e quindi riuscivo a calmarmi molto più facilmente e poi successivamente li ho cominciati a seguire molto più per rilassarmi per intrattenermi in un certo senso per farmi compagnia sentirmi un po' coccolata 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 e quindi niente per quello cioè queste sono le sensazioni che poi mi hanno dato nel tempo terza domanda cosa cosa ti ha portato ad intraprendere un percorso da ASMR artist hai trovato delle difficoltà allora mi ha portata ad intraprendere questo percorso la voglia di dare un contributo alla community italiana questo perché quando io ho scoperto l'SMR c'erano pochissimi canali italiani ma veramente pochi 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 io l'ho scoperto cinque anni fa e vi garantisco che c'erano pochissime persone italiane e dato che a me aveva fatto così tanto del bene e comunque fare video mi è sempre piaciuto perché avevo già un canale non ASMR che però stavo abbandonando lentamente ho detto ma perché non perché non incominciare questa nuova avventura in questo campo in fondo posso portare la mia esperienza e migliorare piano piano e così è stato il mio canale è cresciuto molto molto lentamente un po' perché ero incostante nella pubblicazione dei video un po' perché la qualità non era che anche e col tempo ho imparato ad essere costante ad alzare un minimo un minimo la qualità anche per rilassare molto di più voi e quindi piano piano ho visto il canale crescere sempre di più ma la cosa che mi piace di più in assoluto del mio canale è il legame stretto che si è legato con tantissime persone che mi seguono da tanto tempo molte delle quali sono ancora qui e io sono molto contenta per questo di alcuni conosco veramente nome e cognome perché poi ci si iscrive eccetera ci si scambia un po' qualche messaggio oppure magari quando leggo i loro nomi nei commenti sono sempre felice perché dico ma guarda hanno commentato anche questo video no? e quindi nulla io tengo ad ognuno di voi e spero sempre di potervi fare del bene poi ah hai trovato delle difficoltà ma allora dipende in che senso intendiamo difficoltà non ho trovato difficoltà a girare video ho trovato inizialmente difficoltà a trovare una mia dimensione all'interno di questo campo volevo portare anche quella che era la mia persona e non soltanto i video visti e rivisti e penso che un po' io sia riuscita a fare questo ma il mio stomaco sempre partecipe nei miei video e non capisco sta zitto finché non inizio a fare video numero 4 quali sono le tipologie di video che preferisci girare e guardare allora mi piace tantissimo girare i roleplay io adoro girare i roleplay penso che si siano i miei video preferiti e invece da guardare mi piacciono tantissimo i video di tone clicking brushing camera ovviamente whispering e anche i roleplay mi piace molto guardare assolutamente mi rilassano tantissimo e li trovo molto li trovo veramente la creatività e so che vi mancano i miei roleplay ma datemi un pochino di tempo quando avrò la camera tutta per me sicuramente mi mi ingegnerò e voglio ingegnarmi anche per quanto riguarda il green screen che io ho ma non so dove appenderlo quindi devo studiarmi bene un po' tutta la situa allora l'ultima domanda quali sono i trigger e ASMR artist del cuore allora scusate intanto i rumori che qua anche la sera proprio le macchine si danno la passaggio allora i miei trigger che amo sono appunto il tongue clicking il whispering il brushing camera e l'ear cupping e poi e poi basta questi sono i miei preferiti mentre le mie ASMR artist nel cuore ma io ne ho veramente tanti non ho più non ho più la mia la mia preferita sono tante sono tante me ne nomino un bel po' ma tanto riconoscere tutti c'è Veri c'è Sara c'è Velia c'è Greta c'è l'altra Sara c'è Davide c'è Lori c'è 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 oddio l'altro giorno la gemella petta mi pare che si chiami e ho visto la sua live perché lei fa live tipo da tre ore e mi ci sono proprio crollata poi vabbè c'è Chiara c'è chi altro c'è che qua c'è Lisa Grant c'è Marta insomma io guardo tutti ultimamente non ho più molte preferenze anche perché sono sincera li sto guardando di meno in questo periodo e mi scusa con tutto il cuore con tutti i miei colleghi ASMR artist che magari hanno visto che da un momento all'altro non ho più commentato i loro video non è assolutamente una cosa a livello personale ma proprio non li sto guardando perché non ne sento il bisogno io li guardo quando sento il bisogno di guardarli e giusto l'altra sera forse non ho visto uno di Chiara e mi sono addormentata ma perché volevo compagnia perché quei giorni ero sola e però in generale li sto guardando molto meno vado a periodi sono sempre andata a periodi però ci tenevo a dirlo perché non vorrei che insomma pensano male e assolutamente e nulla mi diverto a girarli ultimamente ma li sto guardando meno poi a certo punto arriva il periodo in cui ne ho di nuovo bisogno e mi faccio la scorpacciata di tutti i video che ho perso quindi tranquilli e niente le domande sono io ringrazio ancora rosy per il tag e niente spero che vi siate rilassati bella bella sta felpa proprio da casa spero che vi siate rilassati e io vi auguro un po' riposo un po' riposo un po' riposo un po' riposo e un dolcissimo 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 risveglio ciao 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 ciao